Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi di quanto è successo fuori dal grande fratello nella serata di ieri. Alcuni fan del programma si sono davvero scatenati nei confronti di Perla. Dopo l'ultimo confronto, sembra che la situazione con Mirko non sia più così chiara come sembrava. Perla stessa ha ammesso di avere una forte voglia di vivere qualcosa con lui lontano dalle telecamere. Ma al momento si sente obbligata a finire il percorso all'interno della casa. Nonostante sembri difficile pensare che Perla non sia presa da Mirko, alcuni telespettatori hanno urlato a Perla di stare lontana da Alessio. Letizia Petris è stata chiara riguardo a questo mentre chiacchierava con Paolo Masella e Anita Olivieri. Alessio sembra essere interessato a Perla. Ma anche Anita ha messo gli occhi su di lui. Perla ha confessato di sentirsi in difficoltà con Alessio e di non sapere quanto dovrà ancora restare nella casa del grande fratello. Lei ha ammesso che quando qualcuno le prende la testa è difficile da gestire. E sembra che Alessio l'abbia presa proprio alla testa. La situazione è diventata un vero incubo per Perla. Perla ha anche parlato di Edo. Dicendo che con lui era stata sincera riguardo al loro rapporto. Ora però si sente in crisi. E quando Alessio le parla lei non sa come reagire. La situazione sembra essere davvero complicata per la nostra concorrente. E voi cosa ne pensate di questa situazione? Siete d'accordo con i fan che hanno urlato a Perla di stare lontana da Alessio? Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti. Non vedo l'ora di leggerli. Alla prossima con nuovi aggiornamenti dal grande fratello. Grazie a tutti. Grazie a tutti.